Quattro applausi! Mi aspetto. Ma dove li trovi tutti questi casi umani? Ho casi di cuore. Dai, tieni duro. Ancora due o tre puntate e sei in venta. Francesca, ma tu sei ballare? Non ho molta esperienza, ma mi muovo bene, sì. Andiamoci a prendere il successo! C'è un messaggio che riguarda tuo papà. Papà, non puoi stare qui da solo. Non sono solo. Va bene così. Che cosa continui a fare? Voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto. Fasumilissima l'erenza a tutti i nostri ori. Immagino che fare il presentatore sia molto impegnativo. Beh, anche fare il vostro spettacolo lo è, no? Hai paura che rubi qualcosa? Semplicemente trovo strano che una sconosciuta abbia una copia delle chiavi di casa. Cristina non è una sconosciuta. Quanta era bella tua madre. Tu te la ricordi Paolo? No, veramente no. Ti richiamo io, va bene? Paolo! Ok, ciao, ciao. Paolo, ho bisogno di te! Paolo, prendi posizione, stiamo per andare in onda. Io pensavo che questo fosse importante per te. È lo show che hai sempre desiderato. Grazie. Ma vabbè, non vabbè. Ma vabbè. Non vabbè. La verità è una sconosciuta. No vabbè.